Vediamo che effetto fanno questi video, se è troppo vicino, se c'è troppo rumore, se sono positivi o se sono massicresi. Un loro, un loro, si vede addirittura, si vede una corsica, un loro forte si vede addirittura in zona derby, ma è purtroppo finta. Ora vediamo un momentino che effetto fanno questi video.